E rimaniamo sempre ad Asso, perché uno dei palloncini lanciati proprio martedì 8 dicembre è volato fino a Levate, in provincia di Bergamo. La cartolina simbolica, per dire io c'ero, attaccata al palloncino, è arrivata direttamente sul balcone di casa di una famiglia bergamasca, che ha lasciato immediatamente un commento del simpatico ritrovamento con tanto di foto sulla pagina Facebook di Asso Incontra, promotrice dell'evento. Buonasera, uno dei vostri palloncini è arrivato fino a Levate, in provincia di Bergamo, direttamente sul bancone di casa mia, trovato da mia figlia, la quale è stata contentissima del ritrovamento. Questo il messaggio lasciato sotto il video del lancio dei palloncini. Infine il messaggio si conclude con il ringraziamento alla piccola mittente della cartolina. Ringraziamo Clarissa e auguriamo a tutti un buon Natale e felice anno nuovo. Ecco come un semplice palloncino, come quello lanciato da Clarissa, può avere la sua personalissima storia.